François Hollande cerca di mettere a tacere le voci sulla sua presunta relazione con l'attrice Julie Gaillet e minaccia azioni legali contro il settimanale Closer. Secondo quanto pubblicato dalla rivista, il presidente francese, che ha per compagna la giornalista Valérie Trevelye, raggiungerebbe regolarmente in sella al proprio scooter l'abitazione della Gaillet, dove avrebbe l'abitudine di trascorrere la notte. Un presidente normale che ha un colpo di fulmine ironizza la direttrice di Closer. Le prime voci riguardo la presunta relazione erano circolate dieci mesi fa. L'attrice, che ha partecipato alla campagna elettorale di Hollande, aveva già sporto denuncia. A fine dicembre, durante un programma televisivo, la Gaillet visse un momento di imbarazzo quando il conduttore le ricordò il suo impegno accanto ad Hollande, provocando le risa dell'attore Stéphane Guillon, anche lui presente in studio.